Dai Ronny, vieni qua un attimino che lo facciamo veloce, ci dobbiamo fare la promozione del corso, dai! E allora abbiamo deciso così, vabbè più che altro deciso te, comunque abbiamo deciso così. Allora, buonasera, ciao ragazzi, o tu che mi ascolti, te che mi stai guardando, pur non sapendo in realtà tutta la potenza, la forza del personaggio che ti trovi di fronte. Ti si para di fronte un numero uno di tutta la riviera romagnola, ma non solo è sconosciuto anche in Ungheria. E tanto è, anche ho fatto controfigura con Rocco, tu non sai nemmeno chi è Rocco, ma va bene così. Allora, abbiamo deciso in modo unilaterale che c'hai bisogno di aiuti. Allora, sono professionista a livello di trentennale esperienza, ci ho fatto tanto con le donne, ci ho parlato poco veramente, perché alla fine è quello che un po' ti frega. Allora, abbiamo scelto, io e Marlo, che è collaboratore qua, di fare un corso di quelli forti, capito? Un corso serio, molto serio, molto sul pragmatico, che non so cosa significa, ma mi ha detto di pragmatico, e molto potente. Non dico che diventi così sta roba qua, però è una roba che ti aiuta. Allora, tu non ci sai fare, tu sei nato in una generazione che mi dice se zetta, un po', un po' sfighe. Cioè, voglio dire, sei lì che, allora, online, no, smettila, lascia stare le chat, lascia stare, torna off, torna andare. Noi suonavamo i campanelli a lunedì notte, le pescale, noi ci andavamo lì e strombazzavamo con le vespe, tutti i ricordi, con le vespe, a lei, a lei, in riviera, a lei, ma manca Bologna. E a lei, di strombazzata, si arrivava alla tromba... Capito cosa voglio dire? Allora, smettila di farti delle paranoie, di fare dei confronti, sei nato in un'altra realtà. E allora, prendilo, ho un corso qui, tra le mani e le dita, prendilo subito, non perderlo. 85 lezioni, fate ad arte, su misura, partì, alla modica cifra, ma è modica forte, di 24.512 euro. Venduto, regalato, regalato, hai capito, me lo dice Marlo, c'ha razione. Ragazzi, più di quello, cosa volete che mi sdoppio, mi triplico, non posso? Iscrivetevi, fatelo, ma no adesso, ieri, capito? Fatelo subito, parola. Pironi Cook. Com'è andata? Bravo Ronnie, andava bene, dai. Momenti, mi attiene tutto che andiamo fuori, che c'è già prenotato il ristorantino, io e te andiamo. Sì, c'è della bella gente, ma soprattutto c'è del bel bere. C'è del bel bere, del mangiare, poi c'è anche del bel... Ma quello per forza, è la mia vita quella, no?